Allora adesso faremo un gioco, questo che vedete Ubaldo, Ubaldo col Dagelli, lo vedete? Allora adesso faremo un gioco tipo Sarabanda, noi gli faremo ascoltare l'inizio di una canzone che sceglierà la nostra DJ e Ubaldo dovrà indovinare che tipo di canzone è. Scegliete, aspetta Ubaldo, dimmi quando sei pronta. Ci so. Pronta Ubaldo eh? Io sono pronto, lei, Musica. Eh io le conosco. Stop! Questo è troppo facile, questo la riconoscevo anch'io. Questo è... Pronto Ubaldo? Prontissimo. Stop. Eh, questa solo l'avrai capito. Chissà, chissà domani. Ah, è la canzone qual è? È la canzone su internet. evaluation è la canzone su internet. No, è la canzone. Come andiamo inoltre. Anche lo vai capito. Come andiamo qui. classica o baldo una che dovresti sapere dai anche perché 3 a 0 male che va sul 3 a 1 dai stop pronti e chi è si si è quella è quella vai di chi guarda guarda è un nome era il musicista preferito di di hitler credo e tempo fa c'era uno uno con questo nome era un esterno della roma credo la roma di zeman inizia con la doppia dai inizia con la doppia avuto detto tutto dai no 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 guarda ti dico con chi inizia con che finisce va bene inizia con la doppia v e finisce con agner grande da non confondere con shakner chi era shakner esatto grand wagner love si giocava a mosca a mosca è bravissimo bravissimo esatto esatto un'altra canzone un'altra canzone facciamo l'ultimo baldo sei guarda ti do la possibilità 2020 ti va sanremo 2020 anche se non l'ho seguito però vai andiamo sul più facile signorina longari stop questo ci hanno un ci hanno un come come non mi dire che sono i pinguini e però mi devi dire tutto il nome per intero i pinguini tattici nucleari è il titolo della canzone baldo è uno dei è un batterista forse il batterista più famoso del mondo che anziché lui avrebbe potuto essere pit best ma non è stato lui guarda ti dico il vero nome era richard starrison ti ho detto molto ascolto baldo se te pensi al gruppo il gruppo musicale più famoso di tutti i tempi dopo i serenologhi chi è no non ti dico a gubbio baldo in tutto il mondo qual è il gruppo ecco i primi che ha detto il batterista dei beatles quattro su quattro ubaldo hai vinto guarda hai vinto una passeggiata ti presto il cane domani per fare la passeggiata un quarto d'ora va bene grazie guarda va bene ubaldo saluta stavo facendo partire l'effetto sonoro te lo ricordi dal film di bud spencer lei ha vinto una babolina vai fallo partire lei ha vinto una babolina lei ha vinto una babolina eccolo lei ha vinto una babolina sentito? perfettamente e allora baldo ti saluto dicendoti buon calcio che prima o poi tornerà prima o poi si tornerà a vederlo con i tifosi ma e con gli stati pieni va bene baldo buonanotte un abbraccio buonanotte a te ciao ciao